All'interno di un attendopoli dove ci sono dei profughi o presunti profughi, perché poi bisognerà verificare se effettivamente hanno i titoli per avere una protezione internazionale di vario grado, se questi arrivano e arrivano in condizioni di assoluta povertà come ci viene raccontato sistematicamente, salvo poi vedere che molti arrivano anche con l'ultimo modello di telefonino, ma questo magari capita in maniera più sporadica. Allora, lei mi dice, arrivano poveri e senza un lavoro, senza soldi e tutto il resto, dove li trovano i soldi per comprare la droga e gli alcolici? Come fanno ad entrare in una struttura che dovrebbe essere protetta, che viene purtroppo troppo spesso affidato a cooperative che ci vanno a lucrare sopra? Come fanno a comprarsi queste cose qui? Me lo puoi spiegare lei? Perché c'è una diffusione. Se bevono alcolici e comprano droga, chi glieli dà i soldi? Me lo sa spiegare lei? Visto che è del posto, me lo spieghi? Ci sono, glielo dico subito, la mia interpretazione, ci sono i finanziamenti pubblici che vengono erogati alle singole persone e alle comunità che gestiscono. Quindi lei ci sta dicendo che i finanziamenti che devono andare ai profughi finiscono in droga e d'arco? Mi faccio completare, è la mafia che smista droga anche gratis per dominare la struttura.